Con l'arrivo dell'estate e il grande afflusso di turisti italiani e stranieri nelle splendide località costiere della campagna, Lega Ambiente e Conai lanciano la diciottesima edizione di Ricicla Estate, la campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata. La collaborazione tra enti locali, conai, capitanerie, stabilimenti balneari, strutture ricettive, cittadini e turisti, si conferma un punto di partenza fondamentale per promuovere una raccolta differenziata di qualità e ridurre la produzione di rifiuti. Io amo sempre dire che Lega Ambiente è l'associazione del come, del come fare le cose, non per forza solo sì e no. Il come dà la capacità agli amministratori di capire i criteri e le priorità. Capire i numeri significa studiare cosa c'è dietro, che ci sono persone, comportamenti, buone pratiche e attitudini. La provincia di Saenno si posiziona stabilmente ai primissimi posti per questa classifica, che secondo me mette in evidenza tanti aspetti. In primo luogo quella della buona educazione, che è un aspetto dalla quale non possiamo mai prescindere. Rispetto ai dati c'è un'inversione di tendenza sul turismo culturale. Il turismo culturale è in grande crescita semplicemente perché ci sono delle buone pratiche che si stanno acquisendo in relazione alla capacità dei musei, dei siti di essere aperti, ma non tenuti e resi fruibili per 365 giorni all'anno. Dobbiamo uscire dalla logica della stagionalizzazione, capire che la provincia può sviluppare turismo dal 1 gennaio al 31 dicembre. La bassa stagione è una nostra condizione mentale, dobbiamo ritenerci in alta stagione sempre, anche per l'impegno. La capacità di quel territorio non è soltanto di raccontarsi di più e meglio, ma di rendere assessori al turismo ogni singolo abitante, che deve innanzitutto capire e avere la consapevolezza del tesoro in cui abita. Quando questa cosa viene capita e compresa diventa un surplus per l'offerta turistica, che ripeto oggi deve mettere in conto domanda, offerta, storia e soprattutto struttura. Quindi un grande ruolo degli operatori turistici che rappresentano la vera sfida. Avere un territorio e non averlo fruito in condizione di essere vissuto per più giorni nello stesso periodo è la vera sconfitta. La corretta pratica della raccolta differenziata, che ci segue anche in vacanza, è un gesto semplice ma significativo, che rende le nostre vacanze sempre più green. La campagna di ricicla estate per il 2023 presenta numerose sorprese e novità, con un tour itinerante che toccherà le principali località di mare, i comuni interni, le aree protette e i luoghi d'arte e patrimonio unesco della regione. Una diciottesima edizione all'insegna di tante novità. Si consolida l'alleanza col Conai, ma ora proviamo a raccontare anche il cambiamento dei flussi turistici. Campania da record, non solo su lungo le coste, ma anche nelle città d'arte e nelle aree naturalistiche. Parchi nazionali e parchi regionali, tanti turisti, allora il nostro dossier, il nostro focus racconta proprio questo. Racconta di tante eccellenze, sicuramente dalla provincia di Salerno, che come sempre vede delle eccellenze e delle performance positive sulla raccolta differenziata, non soltanto in termini di percentuale, ma anche di qualità nella gestione, fino anche ai parchi regionali e nazionali che fanno delle performance di altissimo livello. Raccontiamo questo e accompagniamo anche i comuni che hanno più difficoltà, a causa anche di questa percentuale importante di turismo, a fare dei passi avanti. Lo facciamo con il nostro dossier, che appunto è una fotografia, un quadro su cosa si muove in campagna, ma anche grazie ad una campagna che starà lungo le coste, ma anche nelle aree interne, con infopoint, workshop per ragazzi, laboratori per i più piccoli e tanti giochi acquatici e nelle aree naturalistiche, per ricordare l'importanza della raccolta differenziata anche durante i mesi estivi, soprattutto quando nelle nostre città arrivano tantissimi turisti. Non va in vacanza, 18esima edizione, Conai sostiene dall'inizio insieme ai consorsi di filiera questa campagna, perché riteniamo che sia indispensabile informare i cittadini anche durante questo periodo. Purtroppo segnaliamo che nel 2022 la raccolta degli imballaggi in campagna è leggermente scesa, nonostante c'è un punto percentuale in più rispetto al 2021 su tutta la regione, complessivamente di raccolta differenziata. Quindi riteniamo che questa campagna sia fondamentale, richiamiamo un'attenzione ancora più alta da parte dei cittadini e soprattutto dei comuni sulla riorganizzazione dei servizi di raccolta.